Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro nel corso di una serie di interventi eseguiti tra il capologo e i comuni limitrofi oltre 87.000 articoli recanti marchi contraffatti e due opifici denunciando 12 soggetti. In particolare nel corso di un primo intervento i baschi verdi del gruppo pronto impiego nel quartiere Renaccia hanno scoperto un laboratorio clandestino sottoposto a sequestro oltre 4.400 capi di abbigliamento contraffatti o privi di marchio. I militari infatti in riscontro ad una segnalazione prevenuta al numero di pubblica utilità 117 su attivazione della sala operativa hanno fermato in via ponte di Casanova un'autovettura sospetta e hanno verificato che all'interno erano occultati in buste di cellophane diverse centinaia di articoli privi di documentazione amministrativa fiscale di supporto. Le successive perquisizioni condotte presso l'abitazione a un edificio indipendente che si sviluppa su tre piani hanno portato alla luce una fabbrica del falso attrezzata con termopresse per l'applicazione dei marchi utilizzata come deposito di capi semilavorati e già confezionati pronti per la vendita. Denunciata all'autorità giudiziaria una responsabile per contraffazione e ricettazione. Gli stessi baschi verdi a San Giuseppe Vesuviano hanno scoperto un'altra fabbrica del falso all'interno della quale sono stati rinvenuti numerosi rotoli di tessuto di noti marchi contraffatti destinati però più ai bambini e pronti per essere lavorati e utilizzati per la produzione di prodotti tessili come tendaggi, cuscini o bosse. La titolare l'autorità giudiziaria per contraffazione e ricettazione. Sempre una pattuglia di baschi verdi di Napoli nel quartiere Stella San Carlo all'Arena mentre transitava in Viale Farnese notava la presenza di alcuni soggetti che maneggiavano delle buste contenenti capi d'abbigliamento all'interno di un box auto. Il successivo controllo ha permesso di sequestrare su scaffali, in scatole pronti per essere imbustati, 3.100 scarpe, cinture, giubbini, cappelli, borselli, calzini con marchi contraffatti. Al termine dell'intervento sono stati denunciati tre responsabili. Il gruppo di fretta maggiore nel corso di nove distinti interventi condotti nei comuni a nord di Napoli ha sequestrato quasi 80.000 articoli contraffatti, tra cui borse, tute, calzature e profumi riconducibili a case di alta moda, denunciando sette responsabili. Sottorizzazione del Tribunale di Nola sono stati anche consegnati alla protezione civile della regione Campania, presso i loro magazzini, 1.440 jeans sequestrati nell'ambito di una pregressa operazione condotta dalla compagnia di Casanuovo di Napoli. I capi di vestiario ai quali è stato rimosso il marchio contraffatto di Notagriff di moda sono infatti di buona fattura e possono quindi essere devoluti ai più bisognosi.